Si tratta in particolare del Sacred Festival, settimana di musica classica e sacra nelle città d'Europa. Quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo voluto rilanciare il progetto nato per la valorizzazione dei siti storico-monumentali e per la valorizzazione della musica all'estero e in particolare nella città di Bordeaux, dove sarà realizzato il concerto di apertura che si terrà il 20 ottobre 2019 presso la chiesa di Notre Dame. Quindi un evento importantissimo che collegherà le culture siciliane, la cultura italiana e la cultura francese e non solo ma anche la valorizzazione dei siti storico-monumentali come il sito, che è un patrimonio unesco del Duomo di Cefalù con la chiesa di Notre Dame che si trova a Bordeaux di stile gotico. E non solo ma un panorama artistico internazionale perché saranno presenti numerosi artisti, in particolare la pianista e direttrice d'orchestra Maria Luisa Macellaro La Franca, un violinista a livello internazionale Razvan Stoica che suona tra l'altro uno Stradivari. E poi ci saranno presenti anche i due direttori, Salvatore Caputo che è direttore del coro di Bordeaux e anche direttore di altri teatri importanti a livello mondiale, Emanuele Laoz che è un altro direttore e poi la presenza in scena anche del coro di Bordeaux e dell'orchestra sinfonica di Bordeaux. Si è voluto appunto creare questo ponte, più che un gemellaggio è un ponte culturale tra Palermo, Cefalù e Bordeaux e saranno presenti in quell'occasione diverse autorità. Quindi ci sarà il console italiano, il console francese, il console rumeno, ci sarà il sindaco di Bordeaux, l'assessore alla cultura del comune di Bordeaux e il presidente della Maison de Cultura d'Europa e tante altre personalità che verranno e saranno presenti nel contesto di questo concerto di apertura.